Benveni da 1098 sul mio nuovo gioco come programma uso Unity non mi prendete per cura perchè uso un programma perchè sto usando questo programma perchè dopo tutto è difficile fare e creare un gioco perchè non vanno fatte solo la grafica a parte la grafica eppure la grafica è difficile creare gli alberi, le case ovviamente non troverete tutto scontato ma lo dovete fare voi da solo in più porti la grafica i modeller devi fare anche devi essere anche un bravo scripter ovviamente io lo sto facendo da solo quindi per favore non mi dite eh ma fa schifo eccetera eccetera perchè è stato veramente tosta soprattutto creare lo scripter del controllo e lo scripter per sparare vabbò ci vediamo spero tra un poco lo compiederò lo metterò su youtube se vi piacerà lo scaricherete poi se vi piacerò ovviamente lo continuerò fino alla fine in tal caso riesco a crearne un altro comunque ci vediamo ciao ciao ciao